Non appena ho pubblicato il profilo mi hai contattato. L'ho già cancellato un po' presto no molto bene finito senti voglio controllare come sono messa per la prossima settimana grazie ti prego Giulia perdonami sei stupenda grazie su entra arrivo subito grazie a tutti sei vestita così apposta per me? sì arrivo subito che cosa fai? aspetta non è il momento lasciami andare no lasciami andare tu no 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 prego ferma sta buona fermati fa la brava non 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 A presto. 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 A presto.